La pandemia in corso non permette ai musicisti di suonare di fronte al pubblico in presenza, ma la diffusione della cultura non si deve certo fermare. Con questo spirito Telebelluno proporrà ai telespettatori il concerto registrato martedì nella chiesa di Falcade, interpretato dalla pianista Silvia Tessari assieme all'orchestra Dolomiti Sinfonia diretta dal maestro Delio Cassetta. In prima linea anche i solisti Mattia Tonon al violino e Giuseppe Barutti al violoncello. Due i brani eseguiti durante la serata, Sculptures opera in tre movimenti del contemporaneo David John Roach e il triplo concerto in do maggiore di Ludwig van Beethoven. L'esibizione è stata dedicata allo scultore locale Dante Moro scomparso nel 2009. L'intera registrazione del concerto effettuata a porte chiuse andrà in onda su Telebelluno con i seguenti orari, giovedì alle ore 10 e alle 15 e 10, venerdì alle 20 e 15, sabato alle 15 e 10 e domenica alle ore 20 e 45. musica 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 musica